Oltre 250 persone generali in questo momento stanno vivendo una condizione di disagio rispetto alle ulteriori e diverse criticità che potrebbero ingenerarsi sul territorio considerata la vetustà del centro storico. Quali azioni preventive si possono immaginare se si può immaginare di mettere in campo? Allora sicuramente adesso siamo in una fase di emergenza e quindi rispondiamo all'emergenza facendo del nostro meglio insomma provando ad essere quanto più celeri possibili perché ci rendiamo conto che le esigenze delle famiglie sono importanti. Io sono stata sul posto insomma nel tardo pomeriggio e sono veramente vicina alle famiglie perché mi rendo conto che perdere la propria casa, molte persone hanno bambini piccoli, persone anziane, disabili quindi mi rendo conto che è un momento molto difficile per le famiglie quindi esprimo loro la mia vicinanza. Emergenza abitativa Torre del Greco. L'estate 2023 sembra essere per la quarta città della campagna particolarmente rovente non solo per la calura sfissiante ma per i 114 nuclei familiari pari a quasi 300 persone che dallo scorso 16 luglio ad oggi hanno in parte o del tutto perso la propria abitazione o comunque si trovano nella condizione di non poterne fruire per motivi di stabilità. Dopo il crollo infatti dell'edificio di Corso Umberto una nuova criticità investito nel pomeriggio di ieri uno stabile edifico annunziata comportando lo sgombero immediato di alcuni edifici ivi situati da parte di ulteriori 23 nuclei familiari che si sono uniti ai precedenti 91. Abbiamo ascoltato tutte le esigenze delle famiglie e li abbiamo aiutati offrendo loro un contributo economico che gli possa un po' permettere di far fronte all'emergenza abitativa che stiamo affrontando tra l'altro rispettando quello che è il regolamento delle politiche sociali sul tema dell'emergenza abitativa. Una situazione evidentemente drammatica sulla quale è incessante l'attività dell'amministrazione comunale. Certamente stiamo facendo fronte all'emergenza e poi ci sarà il tempo per fermarci e fare un piano più complessivo che naturalmente tenga conto delle diverse necessità che stiamo scoprendo.